Le zone distretto del sistema sanitario regionale si riducono da 34 a 26. Lo prevede la proposta di legge e disposizione in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto approvate dalla Giunta regionale nel corso della sua ultima seduta e che ora andrà all'approvazione del Consiglio. Per quanto riguarda l'Aretino, nello specifico, le zone del distretto previste saranno tre. Una composta da Rezzo, Casentino e Baltiberina, un'altra per la Valdichiana e un'ultima per il Valdarno. La riduzione degli ambiti zonali rientra nel processo di riordino degli assetti del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale del 16 marzo 2015 e proseguito con la legge regionale approvata dal Consiglio un anno fa, il 28 dicembre 2015. In particolare con questa proposta di legge si procede alla revisione degli ambiti territoriali di zona distretto individuati all'interno delle tre grandi aziende sanitarie in base a criteri quali il numero di abitanti, l'estensione del territorio e il numero di comuni, ponendo attenzione alle zone disagiate di confine montane, alla loro identità territoriale e considerando le esperienze sociosanitarie maturate e consolidate e il rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.